La tigre del farweb che gioca a minecraft con tal volume che c'è Yook 4360 Ciao a tutti ragazzi sono Yook e benvenuti in questo nuovo e dopo tanto video di minecraft Ragazzi sarà un video breve dove vi spiegherò un paio di cose Eeeh si non sono una gallina scusatemi eh Sembrava una gallina ma non voglio essere una gallina voglio essere questo qua Oh ora si ragiona Bene ragazzi benvenuti in questo nuovo video di minecraft Come dal titolo l'overload diventa 1.6.4 con tutte le mod belle Fresche e fresche e aggiornate grazie a un ragazzo di Slucky Un ragazzo inglese che mi ha dato il pacchetto quando era ancora in beta Eeeh ho testato la beta appunto in live Perché c'è una cobblestone attaccata a stile borsetta Mi ha dato il pacchetto per provarlo per provare appunto la beta Per dirgli eventuali bug eccetera Infatti questa qua è la serie che ho appena cominciato in live da poco un paio di giorni Non mi ricordo quando Eeeh però ho intenzione di iniziare una piccola e veloce serie su youtube Giusto per svagarmi e non con video lunghi Perché sapete i vari problemi di connessione e non solo Eeeh serie veloce serie ho detto nel senso che farò Cercherò di fare cose nuove magari dandoci degli obiettivi In modo da poter finire appunto la serie Ragazzi eeeh oggi come tutti gli altri giorni Scusatemi per questi due giorni che non sono andati in live Oggi andrò in live Non so che ora controllate su facebook per l'orario Io comunque credo intorno alle 15 o alle 16 Non so questo video lo riuscirò a caricare prima o dopo il live Eeeh per chi non riesce a accedere al live Vada tranquillamente sul link in descrizione di twitch Cliccate sul link e il live parte quando è attivo Intanto c'è la chat Oh ma sono alto tre blocchi guardate che figata Eeeh una cosa importante ragazzi Eeeh inizierò la serie la breve la veloce serie O con gli obiettivi o una lunga serie non lo so Dipende da come sto eeeh in quel periodo E la connessione Magari la comincerò anche da oggi o comunque sia da domani Eeeh solamente se vedo un bel po' di pollici in su Perché se non vi interessa o altro Non sto a perdere tempo un sacco di altre cose da fare Eeeh per cui vi ricordo i pollici in su Se volete la serie Eeeh l'altra che ho iniziato della Disastrocraft Per chi mi ha seguito in live ha visto tutta la roba che ho fatto Per cui direi di finirla Cioè direi di averla finita perché ho fatto veramente di tutto ragazzi Mi mancava da fare sì tante altre cose ma Non relativamente importanti Vi ho mostrato un sacco di cose nuove Abbiamo tutt'assieme imparato cose nuove Anche grazie alla wiki di Willa Eeeh per cui per la prima volta una serie ragazzi è finita con successo Abbiamo fatto veramente un sacco di roba Quando riuscirò metterò anche la mappa in descrizione Ma non credo perché avevo fatto troppi libri Eeeh per il resto Superficie Per il resto invece ragazzi Ma non ci passo Sono alto tre blocchi Tre blocchi Quattro blocchi Quante cazzo sono alto Ah ma sono anche largo due Madomma sono proprio ciccione allora Ragazzi vi ricordo di venire in live oggi Ah per il pacchetto Eeeh vi ricordo Era una beta Non so se è diventata del tutto ufficiale Che sono sti buchi qua Non so se diventata del tutto ufficiale Ve lo dirò oggi in live Dovrebbe esserci Dislucky ragazzi inglese con noi Per cui seguiteci in live Eeeh vi mostrerò Se è appunto ufficiale Vi dirò Eeeh dove scaricarlo Come scaricarlo e bla 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 Spero ci sia anche dislucky in chiamata Così ce lo spiegherà lui stesso Ragazzi il video è breve Lo so per motivi di connessione Scusatemi ancora Ma sappiate che vi voglio bere Eeeh che non appena mi arriva la fibra ottica O un altro tipo di linea Vi bombarderò di video Eeeh mi riprenderò quello che non ho fatto fino adesso Ragazzi un bacione Un abbraccio come al solito Vi aspetto in live più tardi Oh Eeeh c'è anche il sangue a terra Da Luke tutto Ciao a tutti Ah ma non è Ma quante braccia c'ha